Adesso vorrei fare io una domanda al pubblico. Vorrei sapere che cosa c'è di così misterioso nel rapporto tra film e musica. Vado a lavare il mio cuore nell'acqua. Come il romantico maestro. Sandrino! Ma che è successo? Che ci fate voi qui? Maestro! Che piacere rivederlo! Ma per il nostro canale è successo. Paolopoweredi per la nostra vita. Ed è la stessa per la nostra vita. A questo è un paese che ci potete comprare. Me per l'amore della nostra vita. La stessa per la nostra vita. Grazie a tutti